Committee Solutions si presenta quest'anno a Ecomondo con una rinnovata linea di prodotti. Vi abbiamo ascoltato, abbiamo raccolto le vostre esigenze, le abbiamo compendiati in una soluzione gestionale innovativa. Venite pertanto a trovarci ad Ecomondo allo stand B1040 e se non trovate nei nostri soluzioni software qualcosa che risponda alle vostre esigenze, accettiamo la sfida. La costruiremo insieme. Ci vediamo a Ecomondo la prossima settimana. Grazie a tutti.